Ben Affleck e Jennifer Lopez sempre più vicini al divorzio. Lei tenta l'impossibile per salvare il matrimonio. Cosa ha fatto? Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno attraversando una pesante crisi di coppia, ma la popstar vuole fare l'ultimo tentativo per salvare il matrimonio ed evitare il divorzio. Secondo la stampa estera, la cantante starebbe pianificando un viaggio di coppia in Italia per risolvere le tensioni fra lei e suo marito. Insieme a loro ci dovrebbero essere anche i figli di entrambi, avuti rispettivamente da relazioni passate. Ma cosa ha di speciale una vacanza nel bel paese? I viaggi di Jennifer Lopez e Ben Affleck, sono sempre stati considerati iconici e da quando sono tornati insieme, i due si sono goduti lunghi soggiorni in giro per il mondo. Li abbiamo visti nelle campagne francesi, in Toscana, a Milano, a Como e sull'isola di Capri. Insomma, l'Italia è il loro posto felice, e per salvare il matrimonio forse c'è bisogno di spaghetti e mandolino. Jennifer Lopez porta Ben Affleck in Italia per salvare il matrimonio. Secondo People, Jennifer Lopez e Ben Affleck potrebbero passare le loro vacanze in Italia. Dove? Costiera Sorrentina, Taormina e Isole e Olie. La cantante non ha mai nascosto il suo amore per il nostro paese e nel 2023 a Travel più leisure ha dichiarato quanto segue. Quando finalmente sono andata a trascorrere un paio di estati di seguito nel sud Italia, mi è davvero piaciuto moltissimo. Perché la coppia è in crisi? Come sappiamo, immediatamente dopo la luna di miele, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono entrati in una brutta crisi matrimoniale. I due stanno affrontando il periodo di maretta ormai da un po', e non è ben chiaro cosa abbia scatenato il malcontento nella coppia. Secondo alcuni, inoltre, lui si sentirebbe completamente, logorato dal matrimonio. La sua ex, madre dei suoi figli, la nota attrice Jennifer Garner, con la quale è rimasto in ottimi rapporti, starebbe facendo il tifo affinché le cose con la Lopez tornino a posto. Al momento, però, non è dato sapere se la strategia della cantante avrà degli effetti benefici su suo marito, e se riusciranno ad evitare il divorzio.